CIN ha questa nuova apertura dell'ufficio di Nuno Lona di Kedros. Sono felicissima di presentarmi Pierluigi Cocchio che sarà il nuovo responsabile di questo ufficio. L'apertura in Nuno è stata una scelta obbligata perché molti dei nostri clienti cercavano nella zona della Val Ceresio e quindi aprire un punto per accogliere tutti i nostri clienti era necessario. Siamo qui per le vostre numerevoli esigenze, faremo felici perché siamo molto bravi, professionali e siamo qui ad accogliervi in Via Porro 24. Vi aspettiamo!